Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Immergendosi nelle luci sfavillanti del Festival di Sanremo, un evento che non ha bisogno di presentazioni, emergono le vicende di Angelina Mango, un'artista eccezionale che si è distinta nell'ultima edizione grazie al suo talento incontestabile. Ma, oltre al bagliore che avvolge la sua presenza, esiste una figura meno visibile ma altrettanto cruciale, Filippo Mango, il fratello. La storia dei Mango è una saga familiare profondamente radicata nell'arte, che ha trovato il suo punto di massimo splendore con il trionfo di Angelina al Festival nel 2024. Accanto a lei, però, c'è sempre stata la presenza costante di Filippo, il cui sostegno e affetto hanno rappresentato un pilastro immutabile. Nonostante il suo nome non brilli sotto i riflettori come quello di sua sorella, Filippo svolge un ruolo indispensabile nel mondo della musica. Nato nel 1995, è il frutto dell'unione tra la madre di Angelina e il celebre Pino Mango, e condivide con la sua famiglia un legame profondo con la musica. Quest'ultima non rappresenta solo un hobby per Filippo, ma è piuttosto una vocazione, con la batteria che si afferma come suo mezzo di espressione prediletto. Influenzato dall'eredità paterna, ha partecipato a numerose esibizioni accanto a suo padre e ha sostenuto Angelina nel suo cammino artistico, contribuendo significativamente al suo emergente successo. Diversamente da molti suoi colleghi, Filippo ha scelto di mantenere un basso profilo, celando con cura la sua vita privata e gestendo i suoi profili social con una discrezione quasi assoluta.